Il pareggio interno contro il Parma ha il sapore dell'occasione perduta. L'1-1 contro i gialloblu ha permesso al Bari di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. La mancata vittoria però ha impedito l'aggancio alla zona UEFA, utile per conquistare un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Ancora una volta il Parma si è confermato, seppure parzialmente, la bestia nera dei biancorossi. Gli emiliani hanno bloccato le fonti di gioco degli uomini di ventura, impedendo lo sviluppo del gioco. Nonostante le difficoltà però Gilette e compagni hanno prodotto qualche buona occasione, fallita solo per sfortuna. La gestione dei momenti tattici più complicati indica la crescita di carattere dei biancorossi, decisiva per compiere un ulteriore salto di qualità. Lo strano trend del campionato infatti sembra dare una mano al Bari. Anche la corsa degli avversari dei galletti infatti è segnata da bruschi ed imprevedibili stop. I sogni di gloria di Mister Ventura dunque passano per la prossima sfida contro la Sampdoria del redivivo Antonio Cassano, in programma mercoledì prossimo a San Nicola.